Buonasera a tutti, sono Carlo Lucarelli, siamo su Radio DJ, questo è Di Giallo e quella che vi voglio raccontare è un'altra storia che appartiene al mondo della musica, un mistero. O meglio, più che un mistero, una leggenda. Questa è la storia della leggenda nera dei Led Zeppelin. Sulle rive del lago di Loch Ness c'è una bella villa che sembra quasi un castello. Si chiama Boleskine House ed è un fabbricato basso molto inglese che abbraccia un ampio giardino. Dietro la villa c'è un boschetto che la nasconde alla riva del lago, che è proprio lui, il lago di Loch Ness, quello del famoso mostro di Loch Ness. A Boleskine House vive un musicista molto famoso che si chiama Jimmy Page ed è uno dei fondatori dei Led Zeppelin. Ecco, attenzione, se vogliamo immaginarla, quella villa, dobbiamo immaginarla così, immersa nella nebbia scozzese del lago di Loch Ness con un mostro dietro. E se vogliamo dargli una colonna sonora a questa scena, allora dobbiamo anche sentirci le note dolcissime di una canzone dalla melodia struggente che si chiama Stairway to Heaven. Stairway to Heaven è una delle canzoni più belle dei Led Zeppelin, che sono uno dei gruppi più importanti della storia del rock, reinventato e rivoluzionato da loro con una decina di album che vanno dal 68 all'80. Tutti i gruppi heavy metal, per esempio, se gli si chiede cosa c'era, all'inizio dicono quasi sempre la stessa cosa. Ebbè, all'inizio c'erano i Led Zeppelin. C'erano canzoni come Good Time, Bad Time, All Lotta Love. C'erano canzoni come Black Dog. Ecco, la melodia di Stairway to Heaven è dolcissima, almeno all'inizio estruggente. E anche le parole lo sono, parlano di una cosa molto bella, una scala per il paradiso. Però, attenzione, c'è qualcosa di strano in quella musica. E poi, se torniamo alla nostra scena, c'è qualcosa di strano in quella villa. Boleskine House, proprio dietro il lago del mostro di Loch Ness. E attenti, c'è anche qualcosa di strano in quello strano tipo dei capelli arruffati che suona la chitarra. Partiamo dalla villa. È molto strana anche quella, la villa sul lago di Loch Ness. Prima di appartenere a Jimmy Page, Boleskine House apparteneva ad un'altra persona. Molto strana che lui. Uno strano giovanotto, dall'aria molto elegante, molto carismatica, che aveva cambiato il suo nome di battesimo. Prima si chiamava Edward Alexander. Adesso si chiama Alistair. Alistair Crowley. Crowley è un occultista. Attenzione di più. È un sacerdote di sette esoteriche importanti come la Golden Dawn e l'Ordo Templi Orientis. Di più. È il gran maestro di Terion. Il principe delle tenebre. La bestia 666. E come tale viene considerato, a torto ragione, la discussione sarebbe molto lunga e molto complessa, uno dei fondatori del satanismo moderno. Insomma, lui è Alistair Crowley. È in quella casa, in Boleskine House, con l'ago del mostro di Loch Ness alle spalle, che la congregazione di Crowley ha celebrato i riti di magia sessuale e lui ha scritto i principi esoterici in un libro, che si chiama Il Libro della Legge, che dice che gli è stato rivelato direttamente dal demone Iwas. Per chi ci crede, e probabilmente anche per chi non ci crede, quella villa arriva al lago, dall'aspetto così normale e tranquillo, comincia adesso ad assumere dei toni affascinanti o inquietanti, a seconda dei punti di vista. Diventa più o meno come la casa dei fantasmi di un vecchio film. Ecco, Jimmy Page a queste cose ci crede. Ci crede come? Quando comprò Boleskine House, lo fece proprio pensando che le cattive vibrazioni della congregazione di Alistair Crowley, che i principi del demone Iwas, fossero ancora là. E lo ha fatto apposta. Negli anni 70, Jimmy Page non era soltanto il chitarrista dei Led Zeppelin, l'uomo che, insieme a Robert Plant, stava fondando la band che stava inventando l'hard rock. Era anche un convinto ed esperto appassionato di esoterismo, un seguace, anzi un vero e proprio fan, di Alistair Crowley, di cui aveva acquistato tutto, dagli abiti, agli oggetti, ai manoscritti originali. Una vera e propria ossessione. Talmente appassionato da riempire le copertine dei suoi album di simboli esoterici e crowleyiani più o meno nascosti. Per esempio, Page aveva fatto incidere il motto di Crowley, che in inglese un po' arcaico, un po' strano, un po' satanico, suonava come Do what you will, so met it be. Fai quello che vuoi, così potrai essere. Lo aveva fatto incidere sul vinile del terzo album delle Led Zeppelin. e per la copertina interna del quarto album aveva convinto tutti i componenti del gruppo a mettere un simbolo per ognuno. Per lui aveva fatto mettere uno strano disegno che sembrava scrivere una parola sconosciuta, Zoso. Page dice di averla inventata da solo, ma per qualcuno quello è un freggio satanico, una serie di simboli contenuti in un libro che insegnerebbe a fare patti col diavolo. Questo per quanto riguarda la casa è per quanto riguarda quello strano personaggio, Jimmy Page. Però attenzione, c'è qualcosa di strano anche in quella canzone dolcissima, Stairway to Heaven. Però la canzone è dolcissima se l'ascoltate come l'ascoltiamo tutti, ma dicono alcuni non è così che bisogna ascoltarla. Per capire veramente il significato di quella canzone, dice chi ci crede, bisogna ascoltarla a rovescio. Ecco, quello del backward masking, un inserimento in un disco di frasi che se ascoltate a rovescio acquistano un senso compiuto, è uno strano fenomeno, un fatto oggettivo per alcuni, una leggenda metropolitana per altri, un po' come l'isola di Atlantida e i cerchi nel grano. Sta alla base della teoria per cui parte del rock sarebbe espressione occulta del satanismo, inserendo esortazioni alla rovescia come My Sweet Satan, Mio Dolce Satana, in One Vision dei Queen, in Hotel California, degli Eagles, in Prince, addirittura in canzoni di Mina e anche di Zucker. In Stairway to Heaven ci sarebbe una frase molto lunga, Here's My Sweet Satan e poi continua Ecco il mio dolce satana la cui piccola vita non mi renderà mai triste e dalla quale il potere è satana. Egli darà il progresso dandoti il 666 e così via. Non è vero, dice chi non ci crede. Se si ascolta un insieme di suoni, prima o poi, un senso, lo si trova, una parola compiuta, qualcosa che si forma, qualcosa che la tua suggestione ti porta ad immaginare. No, no, è vero, dice invece chi ci crede. La canzone è satanica ed è stata composta da Page e Plant durante un rito di scrittura automatica. come se fosse ispirata da un'entità. Ora, veri o falsi che siano, coincidenze, provocazioni o fatti oggettivi, tutti questi elementi però concorrono a formare la leggenda nera di Jimmy Page e delle Ed Zeppelin. Soprattutto quando all'interno di questa leggenda nel corso degli anni alcune cose cominciano ad accadere davvero. Ecco le cose che accadono. Nel 1976 Kit Harwood, socio delle Ed Zeppelin, muore in circostanze misteriose. Nello stesso anno muore anche la moglie dell'amministratore della tournée. Kit Ralph, che aveva suonato nel primo gruppo di Page, muore fulminato da un cortocircuito provocato proprio dalla sua chitarra elettrica. Poi c'è Karak, è un bambino, è il figlio di cinque anni di Robert Plant, muore per un'infezione virale mentre il gruppo è in tournée. E poi, soprattutto, c'è John Bonham, il batterista dei Led Zeppelin, detto The Beast, la bestia, perché è il terrore degli albergatori a cui regolarmente sfascia tutte le stanze quando si ubriaca. The Beast, John Bonham, muore nel 1980 per eccesso d'alcol, proprio a casa di Page. Attenzione però, stiamo parlando di rocker, e che rocker naturalmente, stiamo parlando di gente che fa una vita assurda, è sempre in viaggio, è sempre a rischio, abusa di tutto quello che si può abusare. Quindi parliamo di persone che non abbiano una vita così sana, a cui qualche incidente, e soprattutto qualche incidente dal punto di vista dell'assoluto, e prima o poi può succedere. Stiamo parlando anche di tantissime persone, figli, gente che lavora nei gruppi, manager, persone che hanno relazioni che lontane con i Led Zeppelin. E poi stiamo parlando di tanti anni. Per cui è normale che qualcuno, in tanti anni, in un gruppo molto allargato di persone, muoia o abbia un incidente, senza che tutto questo abbia una relazione, e tantomeno una relazione di tipo esoterico o satanico. Però per qualcuno no, non è così. E anche i membri del gruppo allora lo pensarono. Si chiesero, non è che tutte queste manie esoteriche di Jimmy, questo mettere per esempio quei dodici bambini nudi che scalano una collina verso quella che sembra un'arca, sulla copertina di House of the Holy, oppure quella signora che tiene la mano sulla testa di un bambino, sul retro di Presence. Insomma, non è che tutte queste cose, prima o poi, finiscono per portarci sfortuna davvero. Ma allora, la leggenda nera dei Led Zeppelin, il mistero di tutto quello che succede attorno a Jimmy Page e a Boleskine House e alla musica dei Led Zeppelin è vera oppure no? Ha un fondamento reale? Non c'è una risposta. Jimmy Page, volutamente, dà risposte ambigue alle domande che gli vengono rivolte, come suo diritto e come quasi un dovere per una rock star. Il diritto di credere a quello che gli pare, naturalmente, anche ad Alessia e Crowley ed anche a Satana. Poi il diritto di creare suggestioni, di mettere dentro i dischi tutto quello che vuole perché si crea in un certo mondo, una certa suggestione, una certa atmosfera, una certa poesia. Diritto anche di provocare, come appunto è un diritto, ma quasi anche un dovere, per una rock star come Jimmy Page e come i Led Zeppelin. Salvo però portare in tribunale e far condannare per diffamazione tutti quelli che affermano che abbia celebrato un rito accanto al corpo agonizzante di Bonham, The Beast, la bestia. Lui era vestito di una tunica da sacerdote, Bonham stava morendo e lui ha ufficiato un rito in onore di Alessia Crowley. Ecco, chiunque dica una cosa di questo genere viene immediatamente querelato da Jimmy Page che vince la querela. Tutti quelli che lo hanno sostenuto li ha mandati in tribunale. Però qualcosa resta. Attenzione però, qualcosa si può affermare con certezza e forse la cosa più importante perché che si tratti di convinzioni religiose per qualcuno o di aberrazioni per qualcun altro, che siano soltanto provocazioni da Rockstar su gestioni noire e decadenti oppure che siano coincidenze, giochi o magari addirittura soltanto leggende metropolitane. Beh, qualunque cosa sia, Starway to Heaven, ascoltata al dritto o se volete anche ascoltata al rovescio, presta comunque sempre una gran bella canzone.